conta poco l'opposto della gelosia forse è l'amore e quindi ricordiamoci l'amore che proviamo che l'altro prova verso i nuovi dei gesti che fa e ricordiamoci che c'è una vita come diceva Karima di tutto e di più che è una grandissima filosofa a volte è semplicemente tabindercù eccoci nuovo episodio di facciamolo nuovo format che ormai non è nuovo perché sono scelte 35 puntate in cui parliamo per argomenti oggi l'argomento, il topic centrale core di questa puntata sarà la gelosia ush feci già una puntata nella primissima stagione di facciamo sulla gelosia ma con gli anni cambiano le cose io gelosia così uscita di emergenza tutto passa e quindi insomma la rifacciamo perché chiaramente poi sono passati due anni e i pensieri cambiano le nozioni cambiano la vita passa e cambia comunque la vita passa e le gelosie si sperimentano e quindi abbiamo anche altre esperienze sulla pelle esatto anche le gelosie cambiano secondo me questa era una delle domande comunque la struttura della puntata come fai con ognuno di noi speaker noi ti portiamo delle domande poi rispondiamo insieme ci confrontiamo ci scambiamo opinioni comunque su questi argomenti questa era un po' una delle domande che volevo fare non so se vogliamo prima cominciare con una descrizione generale di quello che è il comportamento della gelosia o l'attivazione della gelosia per poi arrivare piano piano alla gelosia che cambia effettivamente col tempo quindi la mia prima domanda sul tema gelosia è la più stupida perché psicologicamente siamo gelosi siamo gelosi diventiamo gelosi di qualcosa di qualcuno di qualche situazione ok parlando della gelosia di coppia è un pochino una cosa facciamo un piccolo step back a livello un po' più ancestrale non è altro che nel momento in cui si è capito che a livello evoluzionistico la coppia monogama era quella che garantiva più affidabilità e qualità per la crescita della prole perché l'essere umano può essere sia monogamo che non monogamo però storicamente siamo qui perché esiste la monogamia e questo è fattuale che cos'era la gelosia? la gelosia è ed era innanzitutto un'emozione umana normale da provare che ha anche molto a che fare con l'invidia sotto un certo punto di vista ma era una sorta di compromesso di patto di prezzo da pagare ma anche di strategia che garantisse una determinata un determinato controllo su un patto monogamo su partner scelto nel senso che io ti seleziono io vengo selezionato da te ma ti seleziono e devo garantirmi che tu non vai a inseminare altre persone perché io te voglio per me i tuoi simili vogliono per me e tu in mezzo alla nostra prole non ci sta il fio di qualcun altro del mio amico del cugino no il cugino assolutamente che se no veramente rientriamo in un'altra cosa veramente strana in altri campi quindi base è un qualcosa di naturale e proviamo gelosia fondamentalmente perché vogliamo poi diciamo anche degli esseri che sin dall'infanzia crescono con un determinato con un determinato ego riferimento quello che in letteratura psicoanalitica e quindi non nella dimensione patologica si può chiamare narcisismo quindi il vedere il mondo ruotare intorno a sé e quindi vedere anche l'affetto come un qualcosa di preteso tutto per sé nella coppia quindi nella dimensione più adulta la gelosia è normale chiaramente poi ci stanno dei cut off delle declinazioni delle declinazioni e dei cut off però non possiamo arrivare qui sederci qui e dire la gelosia non esiste è un costrutto sociale è un costrutto patriarcale no è naturale è umano ed è anche stato e in determinati momenti lo è funzionale chiaro cioè è un prezzo un qualcosa un patto che si fa un una spolverata di zucchero a velo che aiuta a mantenere il controllo e non stiamo parlando della possessione quindi cacare il cazzo perché stai scollata a rompere le palle perché hai messo le like alla storia di una persona stiamo parlando di una cosa che serve un minimo a mantenere i confini ok ok quindi se possiamo dare il primo claim è normale essere gelosi sì 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 cioè la gelosia è un qualcosa di umano esatto perché tante volte esatto è qualcosa di umano perché tante volte qual è tipo il trigger mentale che viene una persona che prova gelosia o che subisce gelosia che qualcosa sta andando male effettivamente o che il controllo di cui parlavamo prima sta totalmente sfuggendo di mano perché l'inserimento di pensieri intrusivi riguardo dinamiche sentimentali emotive di coppia eccetera eccetera vengono un secondo scombussolate da questa sorta di fuoco dentro questo peso sul petto che proviamo davanti a una situazione davanti a una persona davanti e ci sembra a volte chi è geloso sembra quasi di sentirsi in colpa del fatto che è geloso o che comunque si inserisca in una dinamica tipo di difetto o di insicurezza perché avremo un altro thread a questo rispondiamo però ci sono due motivi per cui ci si sente in colpa il primo è la visione sociale della gelosia e la seconda cosa che forse fa anche un po' riferimento alla prima è che lo sentiamo anche abbastanza inconsciamente non necessariamente consciamente che c'ha a che fare con la nostra insicurezza volevo chiederti proprio questo di quanta insicurezza c'è dentro il macro contenitore che si chiama gelosia tanta poca è un veicolo è invece la prima scintilla l'insicurezza come decliniamo l'insicurezza all'interno della gelosia possiamo forse dire che è un tipo di gelosia quella che nasce dall'insicurezza il discorso che abbiamo fatto prima sulla quanto è naturale la gelosia è una cosa macro e poi sotto possiamo fare dei rami e quella dell'insicurezza non è un discorso funzionale certo è un qualcosa è più una gelosia che c'ha a che fa con te che con l'altro e quindi non è l'agito dell'altro quello che l'altro fa che ti fa ingelosire ma la tua insicurezza ti porta a dover esercitare un determinato controllo per controllare l'insicurezza più che la fedeltà chiaro questa è una dinamica molto comune secondo me sì sono due secondo me le dinamiche più comuni questa è l'insicurezza è quella del confondere la gelosia come una dimostrazione di amore come un ci tengo e quindi mi faccio rodere il culo se un'altra persona ti guarda se tu fai determinate cose e qui sfrutto il tuo gancio per aprire un'altra macro parentesi di questa puntata e quindi un'altra domanda esiste la gelosia buona che distinzione possiamo fare da gelosia buona e gelosia cattiva non esiste la gelosia cattiva come ci muoviamo all'interno di questa distinzione binaria tra l'affermazione di tutto prima usare la gelosia come se fosse la testimone di amore di cura e di tante altre cose positive che invece probabilmente non c'entrano niente con la gelosia quella sicuramente è una cosa sbagliata ma sbagliata per noi e per l'altro cioè confondere un'emozione con un'altra cioè leggere l'amore nella gelosia se una persona non è gelosa di noi non vuol dire che non ci ama vuol dire che magari è una persona sicura di base che assicura dell'amore che gli dimostriamo perché a volte essere gelosi è anche una sorta di non fidarsi è anche una cosa brutta cioè ci pensiamo troppo poco spesso a questo perché l'altro tende subito ad andare sulla difensiva della serie no non è vero non ho fatto questo non è successo niente l'altra sera ma uno dei sottotesti della gelosia è non mi fido di te quindi non mi dimostri abbastanza che come se fossimo in debito no? una cosa bruttarella e soprattutto per chi la vive e poi è importante capire che è una cosa diversa cioè un'emozione che può far parte della dinamica di coppia ma tra l'altro anche nelle non monogamie perché spesso si pensa che le persone non monogamie non sono gelose tutt'altro e poi un altro tipo di gelosia che possiamo definire bad è sicuramente quella che sfocia nel possesso chiaro quindi che c'è proprio quella forse è l'evoluzione peggiore sì sì quella che poi porta a tutta una serie di deprivazioni a manettamenti vari dell'altro di se stessi e che poi può sfociare pure in tragedia nel peggio nel peggio chiaramente allora mi è piaciuta questa riflessione in sicurezza e gelosia io aprendo una parentesi personale penso di essermi sentito più insicuro che geloso per una serie di motivi e ho fatto un sacco negli anni ho fatto sempre un sacco di difficoltà poi a capire questa distinzione e come dicevamo prima a identificare le emozioni è difficilissimo tanto e dare come dice sempre la mia terapeuta Giulia shout out ciao Giulia shout out grazie Giulia grazie Giulia grazie Giulia davvero grazie e dare un nome alle emozioni per tantissimi anni io soprattutto adolescente ero ultra geloso perché non riuscivo a etichettare tanto per i sentimenti le emozioni si può utilizzare la parola etichettamento nel senso dare a un pensiero un nome quindi dare una sorta di forma anche verbale a quello che è un sentimento e poi quegli anni ecco perché poi mi piaceva anche toccare l'argomento di gelosia che comunque cambia forma a seconda delle esperienze che si vivono della crescita della persona negli anni mi sono scoperto veramente poco geloso e per tanti versi molto insicuro che poi però non mi faceva sfogare la mia insicurezza poi non sfogava nella gelosia ma sfogava in una mia chiusura emotiva in un mio distacco dalla persona che conquistavo magari o una serie di altre robe che poi sono le mie manifestazioni le mie deliverables emotive no io pure so abbastanza di cultura romana sulla gelosia ne parlavamo in puntata con Wayne la romanità nella gelosia non è una buona cosa perché è molto quasi sfocia nella possessività c'è un po' la cultura dell'essere gelosi a Roma c'è la cosa a donna mia a donna mia quel discorso lì e io pure sono sempre stato storicamente molto geloso ci ho lavorato tanto 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 negli ultimi cinque anni forse quattro e da lì mi sono ristrutturata completamente determinata adesso c'è molto una filosofia siamo in una relazione adulta o io mi sto facendo un culo allucinante per stare in una relazione adulta se te alla fine mi tradisci io posso non so un coglione cioè nel senso determinate cose le capisco forse manco te vengo a dire guarda che so che tu stai a fare determinate cose o ma tra di una volta ho sgamato il tradimento non l'ho manco detto semplicemente in un secondo momento facendo parte questo discorso di un'orchestra di cose che già non andavano bene in quella relazione bello l'orchestra come quantità di problemi all'interno di una situazione di rotture di caso molto bello l'orchestra cose che non andavano bene e c'era anche il violinista che era il tradimento tra l'altro si chiamato in modo molto brutto che non mi aveva detto ma io ho detto oh c'hai sta roba che si che te lo dico a fare lo so lo capisco acquisisco la mia consapevolezza si aggiunge uno strumento all'orchestra ma è una certa ti saluto perché magari non ripete finita la sinfonia basta sì sì assolutamente è bello anche averci la consapevolezza così chiamiamo questa seconda piccola parentesi sul tema di poterci lavorare quando tu mi hai detto ci ho lavorato tanto e io ho pensato anche ci ho lavorato tanto ci ho lavorato tanto e mi è proprio scattato questo comunque moto felice di dire cavolo cioè effettivamente è una cosa che facendo tanta ma in realtà non proprio anche terapia diretta ma proprio tanta riflessione su se stessi su quelli che secondo me sono partendo proprio dai propri valori e il proprio modo di esprimere l'emozionalità e una serie di altre robe vedi che piano piano è come se i puntini iniziano tutti quanti a a unirsi no e anche perché è un po' frustrante poi sentirsi gelosi no sì 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 vero con se stessi è un'emozione di merda cioè provare la gelosia cioè provare gelosia è un'emozione molto brutta perché tu senti cioè c'ha molto a che fare col tuo valore nel momento in cui la provi c'è già immanente alla gelosia una messa in discussione il proprio valore non valgo abbastanza bravissimo tanto da essere da avere un partner fedele no esatto non scordavo durante una serata sì è questa roba qua alla fine perché poi parlando praticamente quali sono le zone di attivazioni principali la notte le serate migliori amici migliori amiche robe di gruppo the guy you don't have to worry about che poi palesemente dopo diventa arpischiello con cui si sposa però la vita è fatta anche di questo anche di questo esatto sì ma io quello che penso è cioè ricollegandomi anche un pochino al discorso di prima mettiamola molto su una questione di responsabilità e tu stai in una relazione adulta nel momento in cui l'altra persona cioè scegli i tradisci sei assunto una responsabilità ti sei a collato una responsabilità ti fa una determinata cosa con delle conseguenze io poi chiaramente nel momento in cui percepisco dei vibe ho tutto il diritto di sentirmi geloso perché non è che devo ingogliare ospo e riguardo a lavorare sulla propria gelosia come dicevi te secondo me è una cosa che puoi riassumere al massimo è guardarla esatto cioè non solo provarla ma guardarla ma non come nello stato dissociativo cioè sapere osservare possiamo anche fare riferimento tante volte quando l'abbiamo subita credo ci sia capitato a entrambi e credo a tantissime persone magari stai in serata e ti arrivano i messaggi della pischella con cui stai in quel periodo che è gelosa la scarica dei proiettili la scarica dei proiettili su whatsapp però su whatsapp ti arriva la chiamatina oppure il giorno dopo c'è un vibe strano e tutte quelle cose lì e tu magari ti sei fatto i cazzi una serata in cui non hai proprio pensato hai fatto gli zompetti con gli amici e quindi a volte si può anche si può anche guardare del tipo ma non è che fa io la scarica dei proiettili oppure quanto una domanda secondo noi è bellissima da porsi quando si proge lo sia è quanto il mio mettere sul tavolo in questo momento degli atteggiamenti espressivi quindi delle rotture di coglioni ce la vogliamo andare a mettere così come termine neutro perché oggettivamente ti rompo ti rompo in questo momento ti rompo perché sto provando questa emozione non è la persona è gelosa e rompe i coglioni per l'antanasia non voglio dire questo quindi io in questo momento metto sul tavolo quella che è la mia gelosia quanto mettere sul tavolo questa mia gelosia vale ciò che conseguirà ad aver fatto questa cosa cioè se io adesso apro un conflitto perché sto sentendo un'insicurezza rispetto a tra l'altro spesso e volentieri quanto controllo puoi esercitare che conseguenza avrà il conflitto con una persona la dinamica di fiducia fedeltà messa in discussione perché lì quando uno mette sul piatto la gelosia mette in discussione fiducia e fedeltà punto quindi ci vuole anche una determinata un ponderare la gelosia con l'altro e un ponderarla con l'altro può aiutare anche noi stessi a fare un esercizio tra virgolette di resistenza quasi che però si poi tramuta in allenamento incredibile per la nostra gestione delle emozioni sì sì assolutamente è come un solo impulsivo spacco le porte e invece no bisogna spacchi le porte inizia inclinare la maniglia e poi con l'allenamento si arriva effettivamente a guardare arrabbiatissimo la porta ma la porta non la tocchi effettivamente sì sì esatto e la porta gli dici ieri sera mi sono sentito un po' così come è andata la tua serata mi sono sentito un po' geloso parliamone e la porta te risponde qua siamo parlando veramente del grado maestro scifu delle relazioni però alla fine è così bravissimo questa roba delle conseguenze è un tema secondo me importantissimo perché poi tutto ciò che è l'annebbiamento mentale sotto stress perché proviamo determinate emozioni genera il peggio di noi perché è come se per quei secondi minuti in cui siamo totalmente oppressi dalle emozioni siamo tipo iperfatti potremmo fare qualsiasi cosa perché non ti rendi conto è una delle emozioni secondo me in generale che ti manda fuori di te chiaramente declinazioni potenti io ho visto fare delle cose ho anche fatto nella vita delle cose in dei momenti di gelosia che non fanno proprio riferimento all'essere umano che vedevo agire attraverso la gelosia o riferito a me è una cosa che va veramente vista secondo me è molto paragonabile a una cosa magari alla rabbia la rabbia c'ha la declinazione e mi incazzo perché sento che c'è un'ingiustizia la rabbia solitamente c'ha a che fare con l'ingiustizia la percezione è un'ingiustizia però ci stanno varie declinazioni sono incazzato lo dimostro assertivamente dico in questo momento sto provando rabbia decido se calmarmi decido se cercare di ridimensionare questa cosa decido se ascoltare questa emozione sto provando e cercare di dargli la declinazione più sana possibile oppure arrivo a dan destra la porta rompermi magari una mano e tutte queste cose qui quindi c'è tutto un continuo si si una cascata che poi si attiva è lo stesso discorso de son cazzato sfondo una porta o son cazzato e capisco perché sono arrabbiato la porta una tocco capisco perché sono arrabbiato la porta una tocco ma legittimo anche le mie emozioni perché poi tra l'altro stiamo parlando di emozioni quindi se provi gerosia è giusto che tu provi esatto una roba che a me funziona un sacco che ho imparato veramente di recente è fare ristrutturazione dei pensieri eh porca droga bacio di maniche complimenti frate cioè sto imparando ovvero il problema perché mi sento così cosa mi ha fatto sentire così qual è stata la prima cosa che ho provato quella cosa si chiama abc abc infatti c'è anche la mia applicazione che non uso mai perdonami giuro che siamo a Greta che è proprio per fare gli abc quindi che cosa mi ha fatto scadurre questa cosa come mi sento come mi dovrei sentire ma è utile che io mi senta così e boom 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 e come mi sono comportato come mi sono comportato dopo e soprattutto proprio la domanda finale è ma davvero il mio cervello cioè quando io soffro un botto tipo le ipotesi che il mio cervello creano ok quindi quanto è reale quello che sto provando cioè quanto è collegato la realtà quello che sto provando e quanto invece è collegato la mia paura la mia ansia eccetera 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 dopo questa sorta di lavagna mentale che mi fa sudare mi butta per terra ogni tanto quando va molto bene riesco a far passare il trigger comunque no 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 però stiamo ancora parlando di livello scifu della gestione la persona che sa lavorare su se stessa è una cosa che tendenzialmente dovremmo fare perché altrimenti scarichiamo le nostre cose risolte nella coppia non è il massimo non è mai il massimo non sono fan dire una frase in modo talebano del tipo devi stare bene prima te per stare in una relazione certe volte c'è bisogno di stare in una relazione per renderti conto di cose che devi migliorare o di essere spinto dall'amore e dalla voglia di stare in una relazione per migliorare determinate aspetti o semplicemente per vivere delle cose su cui puoi migliorare che senza una relazione non viveresti quindi sì guardare la gelosia e cercare di a un certo punto tornare nel reale bravista quando parti con quella cosa ti distacchi dal reale a me una volta è capitato che ho visto una persona con cui stavo andare nella stessa direzione del bagno con un'altra persona che conoscevo tra l'altro mi fidavo sicuramente ho detto il mio cervello mi ha dato quell'ipotesi adesso si andranno a fare una scappatella in bagno e sono stato tre minuti a pensare così non ho fatto nulla chiaramente non col cazzo che l'ho tirato fuori perché avevo la percezione che fosse un po' un pensiero pazzerello e poi a un certo punto ho detto ma che stai a dire ma che stai a dire ma poi anche se fosse che devo trasformare la mia vita in un cinepanettone che entro in un cinepanettone a me non ho fatto niente te fagga sliding nel senso props per Christian De Siga ti amiamo pure là torna il discorso sei fatta la scappatella al bagno con un amico mio find God capito find God go find God comunque però trova Dio un'altra roba un'altra roba che con me sta funzionando molto sempre di recente comunque è rendersi conto che forse è una ristrutturazione seconda rendersi conto che sto con una persona perché l'amo la stimo è comunque simile o comunque a me magari non proprio simile ma comunque abbiamo trovato dei ganci io mi comporto bene nei suoi confronti per quale motivo lei si dovrebbe comportare male nei miei vabbè questa è un po' Disney secondo me no il mondo a volte è cattivo ma il mondo è cattivissimo il mondo a volte è cattivo è veramente cattivo io ho visto no però ti parlo di gestione dei momenti proprio ah sì cioè quando il cervello parte no io non ti dico tipo di relazione della fiducia no 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 però quando ti parti il cervello quando mi parti il cervello perché a me capita che mi parte il cervello mi distacca totalmente dal reale sì di ricordarti dell'amore che l'altro proprio e te dei gesti d'amore quando io sto a ballare con gli amici miei come dicevi tu prima sto ballando con gli amici miei non penso ad altro che non a divertirmi con loro qua te sei un angelo esatto perché dall'altra parte se sto con una ragazza che comunque ci tiene a me lei invece dovrebbe tipo come dici te no cioè fa la matta allora questa roba qui mi anestetizza il momento poi ci sono un mare di declinazioni post pre e magari poi il giorno dopo te svegli il mondo è cattivo e succede l'inverosimile però di base per tipo tamponare quei momenti di distacco della realtà penso comunque io sto bene lei può fare comunque quello che vuole e io ne sarò che contributo sto dando al nostro rapporto e quindi io mi sto divertendo lei si sta divertendo e beh lì si deve succedere qualcosa succede qualcosa anche perché a quel punto noi siamo passivi non ci abbiamo possibilità e quindi bella lì insomma l'accettazione è una cosa che dovrebbe avere molto a che fare con la gelosia accettare che la si sta provando accettare che non possiamo esercitare esatto nessun tipo di controllo zero ce ne abbiamo pochissimo e il mondo può essere cattivo io vedo sento ho assistito ho fatto anche delle cose della parte cattiva dal punto di vista di fedeltà ho la mia dose di fatalismo e pessimismo soprattutto in un contesto storico dal punto di vista affettivo e culturale che è molto particolare come quello che stiamo vivendo adesso anche a livello generazionale le corna sono in realtà una persona su due tradisce bisogna anche preventivarla come una rottura forse certo cioè nel senso nella vita potrebbe capitare di diventare un cesto di lumache che tocca fa però siamo in una relazione adulta ci stiamo assumendo la responsabilità e tutto l'impegno e tutto il commitment stiamo cercando di creare un amore tra noi due cerchiamo di fare il nostro meglio esatto do your best poi perché dovrebbe succedere qualcosa se stiamo comunque facendo il meglio e tante volte come la gelosia ci ha a che fare può avere a che fare più con noi con le nostre insicurezze che con la qualità della coppia lo stesso vale per il tradimento tante persone tradiscono per cazzi loro non per cazzi della coppia altre volte per cazzi della coppia parliamo un attimo di gelosia retroattiva volevo infatti tirarti l'ultimo gancio della puntata che è gelosia retroattiva mi hai letto il pensiero e anticipato è una piaga nel senso che è una cosa orribile da provare c'è chi la prova attanagliato dalla gelosia retroattiva possiamo parlare come sicuramente con qualcosa che ha un'influenza dal punto di vista culturale soprattutto uomo contrapposto alla donna cioè la donna difficilmente ha rispetto magari al body count delle sensazioni di negatività rispetto all'uomo al massimo la metto più sul discorso c'è più esperienza di me a letto non sarò abbastanza valida ce l'hanno più storicamente sto dicendo non voglio generalizzare però assolutamente ce l'ha più da un punto di vista affettivo quindi forse qualitativamente la relazione precedente che ha avuto sarà meglio della mia o è meglio della mia di quella attuale che ho adesso con lui l'uomo ce l'ha molto più con la controparte sessuale come del resto con la sessualità sì quindi è stata una persona con il pisello più grosso è stata una persona che gli davano più soddisfazione sessuale con lui riusciva a fare determinate cose spesso e volentieri sono tutte anche supposizioni oppure il fatto che ci abbia un body count molto alto oppure alto oppure certe persone rompono il cazzo anche se semplicemente c'ha cinque dei body count è più una sofferenza per chi la prova per un discorso di retaggio culturale che a volte è una responsabilità personale perché non siamo responsabili del male che sentiamo che ci caratterizza ma siamo responsabili al massimo di andarlo a trattare la gelosia retroattiva però è un tema complesso perché c'è questa parte culturale della donna che deve essere puritana oppure il discorso dell'insicurezza ma c'è anche a volte un ruolo protettivo ci stanno molti casi clinici uno l'ho trovato in un libro che si chiama proprio la gelosia dal mulino che è molto molto bello come libro c'è questo caso clinico in cui questo tipo c'aveva questa fissa per questa scappatella che la partner si fece in America non mi ricordo comunque all'estero e tutto quanto addirittura la erotizzava come cosa quindi la trovava quasi eccitante dal punto di vista sessuale e gli eserviva come appiglio per la stabilità della coppia no come appiglio per non buttarsi totalmente e per non sentirsi totalmente in coppia tipo sto bene con questa persona sta andando tutto bene ma c'ho questa cosa che mi attanaglia questo pensiero che mi attanaglia e poi il finale di tutto questo discorso a livello terapeutico bisogna andare a capire che c'era sia un discorso di difficoltà nel lanciarsi dal punto di vista di disponibilità emotiva sia allo stesso tempo di non volersi ingabbiare nella monogamia dal punto di vista relazionale quindi da una cosa di tremenda insicurezza e sotto una gene gigante in realtà c'era un sottotesto di volontà di non legarsi di evitamento e di volontà di non andarsi a confinare in una relazione sola quindi è un mondo completo come lo è la gelosia anche quella non retroattiva rispetto alla gelosia retroattiva se vogliamo dare un consiglio che è una delle cose più richieste nella storia dell'umanità è osserviamoci quando la proviamo osserviamoci guardiamoci quando ci stiamo mettendo di fronte ad una cosa che storicamente non ha avuto a che fare con noi perché noi siamo con una persona quella persona ha fatto sesso un anno prima con un'altra persona e era quella persona un anno fa quella persona un anno fa noi magari non facevamo manco parte della vita di quella persona quella persona adesso sta con me nel presente filosoficamente temporalmente ontologicamente questa persona è adesso è questa persona di quest'anno nel 2024 ciò che ha fatto nel 2023 faceva parte di una persona del 2023 con una persona del 2023 che in questo momento ha un ruolo che non è lo stesso perché adesso ci sto io quindi questo può essere una cosa da ricordarsi seconda cosa tutte le relazioni tutto il sesso diventa se la vediamo dal punto di vista olistico incomparabile quindi non ha proprio senso compararsi con un'altra persona a meno che non c'hai 15 anni e dici e faceva le pompe meglio le ex amiche esatto no 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 totalmente ecco perché non ditelo ai partner perché mettiamo i partner in una situazione cioè al massimo possiamo dire sto provando gelosia retroattiva it's my business lascia 5 minuti perché adesso mi gira il cazzo adesso mi gira il cazzo 5 minuti sto bene però ci penso io e bisogna lavorarci perché bisogna lavorarci perché campà con la gelosia retroattiva è un paio di maniche ma non stiamo a chiedere come ti faceva quella roba come cioè non facciamo come nel film Rebecca tra l'altro si chiama effetto Rebecca si chiama sindrome Rebecca sì sì perché viene al film di Hitchcock che è un film da guardare per la persona che lo provano non chiediamo perché lo mettiamo in una situazione di cosa totalmente incontrollabile perché già successe nel passato e ci mette anche in una posizione agli occhi del partner molto subordinata molto è difficilissima da gestire come è una cosa nostra come è cosa nostra ci possiamo e ci dobbiamo in un certo senso lavorare guardiamo cerchiamo di sfanculare la parte culturale che ci pone questa cosa cerchiamo di capirla come qualcosa che racconta di noi o dal punto di vista affettivo o dal punto di vista insicurezze e analizziamo il presente perché comunque anche un po' l'ultimo claim che lanciamo in questa puntata riguardo soprattutto anche la gelosia retroattiva è che il passato delle persone alla fine conta poco l'opposto della gelosia forse è l'amore esatto e quindi ricordiamoci l'amore che proviamo che l'altro prova verso i nuovi dei gesti che fa e ricordiamoci che c'è una plausibilità di che tutto accade che tutto accade può accadere perlomeno e che a volte nella vita come diceva Karima di tutti e di più che è una grandissima filosofa a volte è semplicemente tap in del culo esatto e con questo vi salutiamo ragazzi io ti ringrazio sempre fantastico te amo e baci a tutti non siate gelosi e se nel caso state provando gelosia accettatelo e guardatevi e ristrutturate un sacco i pensieri osserviamoci osserviamoci e facciamolo e facciamolo e facciamolo è una bella cavata esatto e facciamolo e facciamolo ah 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 ah